Molto velocemente un'introduzione a questo video, è il ferragosto 2023, io credo che sia andato veramente benissimo, iniziale dei fuochi che è stato veramente un bellissimo spettacolo, è stato graditissimo, abbiamo sentito tantissimi commenti da gente proprio estasiata e felice di questi fuochi, ma poi la giornata di ferragosto è stata veramente proprio simpaticissima, veramente complimenti a tutti quelli che si sono mascherati per questo ferragosto, io direi un po' tutte le spiagge, ci dispiace non aver messo tutti, c'è un po' un'infarinatura minima di quello che si è visto, ma poi direi un saluto speciale ai quelli dello Zanzibar che hanno fatto veramente i numeri, la pescheria, i cavernicoli, i santi, gli angeli, i diavoli, ma poi anche la storia e tutti quanti vestiti da romani, l'accoglienza simpaticissima dal tic romani con le matrone, insomma una cosa bella, ma anche diciamo un di tutte le spiagge, ma poi a dire di quelli che si sono diciamo mascherati, proprio c'era questo clima di serenità, di semplicità, di godiamoci questa giornata, vada come vale le cose, quindi veramente è stato, mi sembra di poter dire, un bellissimo ferragosto, ci hanno sostenuto tutti quanti, speriamo che ci accompagni nelle prossime giornate che sono sempre, diciamo, dense di avvenimenti e di cose non sempre belle, ma comunque dai mettiamoci un po' di ottimismo e arrivederci al prossimo ferragosto e complimenti ancora a tutti quelli che si sono veramente dati a fare per questo ferragosto. Musica 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 Grazie a tutti.